Musica Benvenuti, le previsioni del tempo per domani, sabato 24 agosto. Da prima residui e veloci piogge sul Friuli, più sole altrove, ma poi peggiorerà anche su Ovest Alpi, Piemonte e Liguria. Nel pomeriggio temporali dalle Alpi occidentali verso Piemonte, Liguria e Lombardia, altri su Oest Alpi, Appennino Abruzzese, Molesano, Foggiano, Etne e Catanese. Attenzione, in serata temporali nubi fragili da Piemonte e Lombardia verso Veneto e Trentino e altri dalla Liguria verso la Toscana. Peggiorerà sul resto del nord, Toscana, Umbria e Lazio entro domenica. Il rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre garantirà tempo in prevalenza stabile e temperature gradevoli. Sulla Campania, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube che potrà formarsi durante il pomeriggio sui monti dell'entroterra. Temperature in aumento, venti deboli, direzione variabile o a regime di brezza. Mare poco mosso.